Ciao! In questo video diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti per 4 distribuzioni Linux particolari di cui in passato avevamo già parlato. BlendOS, OpenMandriva LX, Peppermint OS e Vanilla OS. Così come fatto in precedenti occasioni, anche stavolta andremo a riprendere tali progetti poiché ognuno di essi ha visto cambiamenti importanti nel corso degli ultimi mesi e dunque ha sicuramente senso investigare tali avanzamenti da vicino, così da capire che cosa è variato. Al solito il video è suddiviso in capitoli per facilitare la fruizione ed è ordinato alfabeticamente. Si parte dunque da BlendOS, una distro che segue un modello di rilascio software rolling ma con aggiornamenti atomici su base immutabile, base che ha fondamenta in Arch Linux. BlendOS è stata anche la prima distribuzione in assoluto su cui abbiamo approfondito qui sul canale ed è risultata la Best Debut Distro nel video DistraWars di fine 2023, dato che appunto è spuntata dal nulla lo scorso anno ed ha mostrato fin da subito un grande carattere. Rispetto al nostro primo contatto con la D2, BlendOS è mutata parecchio. A partire dalla recente D4, rilasciata ad inizio giugno 2024, il sistema è diventato dichiarativo e tra poco capiremo cosa questo comporti. A parte ciò, è rimasto il supporto per le app Android, nonché la possibilità di creare rapidamente container Fedora, Debian, CentOS Stream, Ubuntu, ecc., oltre a poter reperire facilmente pacchetti da repo ufficiali di Arch e da Laur. Ciò significa che, a differenza di praticamente qualsiasi altra distro composable ad oggi esistente come i Fedora Atomic Desktops e il progetto uBlue, OpenSUSE Aeon, RLXOS, Nitrux, e via discorrendo, tutte distro di cui abbiamo parlato, BlendOS è una delle poche che affianca ai classici Flatpak, AppImage e software containerizzati la possibilità di reperire pacchetti tra virgolette standard dalla distro d'origine. O quantomeno può farlo senza che ne sia altamente sconsigliato l'uso. Com'è possibile tutto ciò? Proprio grazie al fatto che il sistema è adesso dichiarativo. La V4 di BlendOS, infatti, è la prima ad essere completamente dichiarativa dopo i primi esperimenti che ci sono stati con la V3. Ciò consente di reperire qualsiasi pacchetto, kernel, o driver, dai repo di Arch o persino dall'AUR, permettendo all'utente di prelevare anche gli ambienti desktop GNOME, KDE, XFCE, MATE e BUDGY con alcune configurazioni già pronte all'uso, cosicché sia possibile utilizzarli senza dover configurare tutto da zero. C'è un singolo file, slash system.yml, che viene usato per definire tutto quello che deve essere presente sul sistema, ed è un po' come quello che c'è alla base di NixOS, su cui abbiamo approfondito con un focus dedicato non troppo tempo fa. Quello che viene scritto nel file system.yml consente di avere un'installazione di BlendOS con gli specifici pacchetti indicati, compresi ambienti desktop o software da prelevare dall'AUR, arrivando ad avere un sistema Arch Linux atomico con un set di pacchetti a scelta. Una volta completata la compilazione del file come più si preferisce, è sufficiente lanciare il comando di upgrade dell'OS tramite apposito tool sviluppato ad hoc per BlendOS che si occuperà di configurare tutto come richiesto, e al successivo riavvio l'utente troverà installati e configurati tutti i pacchetti che aveva inserito all'interno del file. Ma le particolarità di questo sistema non finiscono qui. Come anticipato, è possibile creare container sia da riga di comando che da apposito tool grafico tramite un altro software sviluppato appositamente per BlendOS. I suddetti container possono ospitare al loro interno un'altra distribuzione a scelta dell'utente, da cui è possibile reperire software oppure creare ambienti isolati per specifici compiti. Ma non solo. Semplicemente facendo un doppio clic su di un file .db, rpm o apk, si può istruire il sistema a creare automaticamente un container, se non esiste già, con la distro appropriata per installarci dentro quel pacchetto. Quindi, sia usando direttamente il package manager della specifica distro, sia avviando i pacchetti con essa compatibili, sarà possibile utilizzare i software compatibili con una qualsiasi delle distro per cui è possibile creare container. Inoltre, è anche possibile mappare i package manager degli OS containerizzati per eseguirli direttamente dal sistema principale. Alla fine, le applicazioni installate all'interno dei container appaiono automaticamente nella griglia barra launcher delle app dell'ambiente desktop in uso e possono dunque essere avviate da lì con un semplice clic, ovviamente se sono applicazioni con interfaccia grafica. Il supporto per l'app Android può invece essere attivato tramite l'app System anche se è supportato soltanto da ambienti desktop Wayland come GNOME e KDPlasma, però una volta configurato consente di eseguire app per Android al pari delle altre Linux. Insomma, BlendOS continua a sperimentare aggiungendo sempre più caratteristiche che lo stanno rendendo praticamente un unicum nel panorama Linux. È una sorta di mix di più mondi, il file system è mutabile e ci sono update rolling atomici. La base è Arch, quindi aggiornatissima grazie all'accesso diretto ai suoi tradizionali repo compreso l'AUR. Il sistema può essere configurato in modo dichiarativo e non manca il supporto integrato alle app Android, alla containerizzazione, ecc. Parlando di aggiornamenti rolling, ma su base tradizionale seppur sempre un pelino sperimentale, LX-ROM è il ramo unstable e costantemente aggiornato di OpenMandriva, distro indipendente sorta dalle ceneri di Mandriva Linux come progetto comunitario. LX è mantenuta dalla OpenMandriva Association ed è disponibile per architetture x86 a 32 e 64-bit ed ARM. L'edizione ROM, inaugurata per la prima volta nel 2023, è come detto la variante a rilasci continui dell'OS, mentre ROK è quella con rilasci point release cadenzati nel tempo. In entrambi i casi, LX usa il gestore di pacchetti RPM e di default KDPlasma come ambiente desktop. Di entrambe le edizioni ne avevamo parlato in un focus dedicato a fine 2023, poco dopo il rilascio di OpenMandriva LX ROK 5.0, nome in codice Iodin. Da allora, specialmente ROM, ha però visto costanti aggiornamenti, tra cui i più rilevanti e recenti sono stati inclusi nell'ultima live ISO pubblicata il 20 luglio 2024. Tra le novità ci sono il passaggio a KDPlasma 6 per impostazione predefinita, la pubblicazione di due respin comunitarie con LXQT 2.0 e GNOME 46.3, Wayland non è ancora considerato sufficientemente stabile e, anche se è disponibile a download una ISO apposita con Wayland preinstallato, in ogni caso X11 rimane il server grafico di default. Wine, Proton e Proton Experimental sono ora disponibili come pacchetti ufficiali su repo e questo significa che per la prima volta Proton è disponibile come pacchetto a sé stante al di fuori di Steam, quindi può essere prelevato senza la necessità di installare il client di Valve che ha codice closed source. È stato creato il tool OM-Welcome, un nuovo strumento di avvio e configurazione che è una fusione delle storiche app OMA-Welcome e OM-Control-Center e quindi fa ora lui da punto di partenza centralizzato sia per il setup del sistema che per l'aggiunta di nuovo software. C'è il Kernel 6.10, costruito con CLANG, la LibreOffice Suite in versione 24.2.5 con integrazione dell'EQT 6, Chromium Ungoogled con supporto JPEG XL e Firefox con impostazioni di privacy già configurate. È stato aggiunto il supporto per la tecnologia AMD ROCAM. Ci sono pacchetti aggiornati per vari strumenti di sviluppo come LLVM 18.1.8, GCC 14.1, GLibC 2.39 e non mancano Systemd 255.7 e MESA 24.1.4. È poi iniziato il porting per sopportare anche l'architettura RISC-V e tanto altro ancora. ROM rimane una distro per lo più unstable, soprattutto rispetto a ROC, e serve principalmente da showcase per quello su cui l'associazione OpenMandriva sta lavorando assieme alla community, e che prima o poi verrà rilasciato sul ramo stable dell'OS. Il fatto che il sistema sia un work in progress costante lo si nota, non mancano ogni tanto alcuni freeze, il software non è esente da bug o blocchi, e via discorrendo. I problemi non sono tanti, ma ogni tanto ci sono. Ma ROM resta comunque una distribuzione interessante poiché è un mondo a parte rispetto ai soliti noti, e soprattutto in questa variante rolling è anche decisamente aggiornata. Spesso capita di avere pacchetti persino più recenti rispetto a quelli di Arch o Tumbleweed, quantomeno confrontando i rispettivi repository ufficiali. Approccio completamente opposto a quello di LX-ROM è quanto fa PeppermintOS, che è una derivata dai rami stable di Debian oppure Dewan anche se un tempo si basava su Ubuntu. Anzi, Peppermint nasceva come fork barra respin di Linux Mint, da cui il nome, ma poi negli anni le cose sono cambiate. Oggi PeppermintOS usa l'ambiente desktop XFCE customizzato per restituire una UI familiare ai nuovi arrivati nel mondo Linux, ma richiedendo allo stesso tempo risorse hardware relativamente basse per funzionare. Ed infatti, su PeppermintOS non c'è un focus dedicato qui sul canale quanto più lo avevamo visto qualche mese fa in occasione della panoramica sugli OS Linux-based leggeri adatti per l'uso su PC poco performanti. PeppermintOS, oltre ad essere una distro superleggera, ha anche alcune caratteristiche che la contraddistinguono. L'edizione standard è sostanzialmente una tela bianca che l'utente deve colorare come più preferisce, aggiungendo le applicazioni che desidera. Si parte da una base Debian oppure Dewan per chi non apprezza Systemd, e poi da lì si può installare tutto quello che si vuole recuperandolo dai repository ufficiali delle distro upstream, più altre fonti aggiuntive su cui torneremo tra un attimo. A parte XFCE custom, PeppermintOS sfrutta Nala come frontend per apt-dpkg, il quale ha un output visivo migliore e ci sono un paio di tool sviluppati internamente, e che consentono di aggiungere in modo rapido le principali app comuni, oppure amministrare alcune aree del sistema. Niente di particolarmente spinto, quanto più il minimo per facilitare la vita agli utilizzatori. Nel complesso, il sistema rimane decisamente pulito, minimale e reattivo. Rispetto a quando ne avevamo parlato, da prima d'aprile e poi a luglio 2024 sono arrivate altre due varianti di Peppermint, l'edizione mini e quella tra virgolette maxi. La prima non è nient'altro che una versione pensata per gli utenti che preferiscono le installazioni via rete, con l'impostazione manuale di ogni singola parte del sistema. Il setup segue dunque quello network di Debian, con l'aggiunta di alcuni strumenti specifici di Peppermint prelevati dai repository custom. Invece, la seconda variante è il suo opposto, e oltre a seguire la procedura di installazione dell'edizione standard che è grafica dall'Ibiso via Calamares, preinstalla anche svariate app aggiuntive. È dunque pensata per i nuovi utenti, o per chi è alle prime armi nel mondo del pinguino. Una volta completato il setup, l'utente troverà disponibili le classiche applicazioni come Firefox, GIMP, LibreOffice, Atril, Inkscape, Thunderbird, Timeshift, il supporto a Flatpak già attivo, con tanto di Mint Store forcato per il download di nuovi pacchetti, e via discorrendo. Questa variante fa, forse, un po' perdere lo spirito alla base del progetto, ma è facile capire perché la community l'abbia richiesta e sia stata realizzata. In ogni caso, Peppermint OS, specialmente con l'edizione standard, è una versione minimal e graficamente customizzata di Debian barra Dewan, allineata ai repository ufficiali con però qualche twist in più. Viene semplificato il setup del sistema, e poi vengono sfruttati i repo aggiuntivi per distribuire alcuni specifici software in versioni più recenti rispetto a quelle presenti sulla base stable dell'AppStream, che chiaramente è cristallizzata nel tempo fino all'arrivo della successiva point release. In particolare, vengono ad esempio usati i repo debmultimedia.org o quelli di LibreWolf, oltre ai classici Debian backports, per far sì che tutte le app multimediali, kernel, alcuni software peculiari, e via discorrendo, siano più freschi rispetto a quelli standard di Debian barra Dewan. E parlando di software più recenti e mondo Debian, tornando però nuovamente su distribuzioni sperimentali, Vanilla OS 2 è finalmente uscita dalla beta ed è ora disponibile al download per tutti. Ne avevamo parlato in modo approfondito a marzo di quest'anno, presentando tutte le sue peculiarità, da allora non ci sono stati stravolgimenti ma appunto l'OS è finalmente considerato sufficientemente stabile da poter essere utilizzato senza remore. Fino all'anno scorso Vanilla OS era basato su Ubuntu, ma con la versione 2 è stato completamente riscritto per sfruttare immagini OCI costruite a partire da pacchetti prelevati da Debian Seed, cioè dal suo ramo unstable. A differenza di Peppermint, però, Vanilla OS è una distro che rientra nella stessa categoria di Blend OS poiché sfrutta un filesystem immutabile, aggiornamenti atomici e transazionali, presenta applicazioni containerizzate e via discorrendo. Le parti fondamentali del sistema sono dunque non direttamente modificabili così da evitare cambiamenti indesiderati e corruzione da parte di app di terze parti o aggiornamenti errati. Anzi, una delle peculiarità di Vanilla, che la differenzia dalle altre distro composable, è proprio l'utilizzo di AbbiRoot, una utility creata ad hoc per fornire piena immutabilità ed atomicità, effettuando transazioni tra due filesystem root e garantire che il sistema sia sempre in uno stato coerente. Ma AbbiRoot è solo una tra le caratteristiche principali di questa distro. Ci sono anche VSO, APX, Icaros, e dunque si rimanda al FOX dettagliato di qui sopra per una disamina completa. Quello che oggi è rilevante è che il sistema è finalmente pronto. Probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possa essere considerato utilizzabile nel quotidiano senza intoppi di alcun tipo, ma le features ci sono e la strada da questo punto in poi è tutta in discesa. Un grande in bocca al lupo al team che ne segue lo sviluppo e che tra l'altro è stato fondato da tre italiani, il che non può che farci molto piacere. Tu che ne pensi? Apprezzi maggiormente le distro sperimentali come BlendOS o MagliaOS che portano con sé tante novità? Oppure sistemi più tradizionali come OpenMandriva e PeppermintOS? Ti aspetto nei commenti! Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni, se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se non vedevi l'ora di provare VanillaOS 2. Se hai richieste riguardo altre OS Linux-based per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto!